E' partita la nostra manifestazione da Piazza del Popolo, una bandiera tricolore di 500 metri, si snoda per le vie del centro in questo 2 giugno, abbiamo scelto la festa della Repubblica proprio perché volevamo che in un giorno come questo, le milioni di italiani che credono nel futuro di questa nazione e credono nella sua possibilità di rialzarsi, che credono in una Repubblica italiana fondata sul lavoro, sulla libertà, sull'orgoglio, fondata sulla speranza possano avere voce. Vogliamo dire che non ci crediamo al racconto di questa Italia condannata dall'emergenza del coronavirus, dalle scelte sbagliate che sta facendo il governo, vogliamo dire che non crediamo a un'Italia nella quale qualcuno ha tutte le libertà e qualcun altro non viene preso minimamente in considerazione come è accaduto per noi, per le nostre proposte di queste settimane e con il nostro tentativo di dare una mano a questa Italia, con un governo sordo che non voleva starci ad ascoltare. Dicono che neanche oggi potevamo manifestare e certo, non potevamo manifestare quando è nato questo governo perché era irrispettoso, non possiamo manifestare il 2 giugno perché è irrispettoso, non potevamo manifestare durante l'emergenza Covid perché era pericoloso. Secondo la sinistra la destra non dovrebbe proprio manifestare, ma noi facciamo parte di questa nazione, abbiamo tutti i diritti civili e siamo liberi di esserci anche e soprattutto in un giorno come questo, con la nostra bandiera tricolore per dire viva l'Italia.